And here we go, the fastest girls on the planet, they're fighting for the title, 10.000 meters, illumination race. La prima fase senza punti e senza eliminazioni. Con Yong Seo Na, l'atleta coreana, che si è messa in testa al gruppo. Poi sono subito le due colombiane, le due colombiane che vanno davanti. Sono Gabriela Rueda. In seconda posizione. 319, second warning. Da 119, seconda munizione. 319, second warning. 403, 4.03, warning. 295, 2.95, warning. Yeah, they're fighting for the top spots in this race. It's very, very close. It's very, very close. Now, first elimination now. Elimination now. Eliminazione. 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 30, eliminated. And 22, eliminated. 2, 2, 2, and 30, eliminated. Ok, thank you. Thank you. And now, they're fighting. 95, number 95, second warning. 295, sorry. 295, 2.95, second warning. 295. 4, 2, 2, 8, eliminated. 24, eliminated. Number, number 24, please stop skating. Anna, Petitschnik, stop skating, please. Anna. 24, eliminated. Leave the rest, please. Number 62, first warning. Warning, sorry. Number 62, warning. Valentina, Leetelier, leading the pack. And now, it's Rueda. 4, 0, 3, eliminated. Number 403. 3, 1, 9, eliminated. 3, 1, 9, eliminated. Yongxio, na, stop skating, please. And Yei Tinlin, stop skating, please. Number. 3, 1, 9, eliminated. And 4, 0, 3, eliminated. 3, 21, first. 3, 21, warning. 3, 21, warning. Touch into ventuno. Second warning, 3, 21, second warning. Fabiana Arias, Gabriela Hueda, for Colombia. But now, it's a blur, yeah, from the outside. 4, 2, 5, eliminated. 4, 2, 5, eliminated. 4, 2, 5, eliminated. Colombia, trying to keep the race in control. Fabiana Arias, Gabriela Hueda. And the representatives of the Netherlands from the outside. Number 342, eliminated. Number 342, eliminated. Yeah, 3, 3, 42. And now, it's Lian Van Loon from the outside. Lian Van Loon, and I eliminated this number, 3, 32. Fleur Fein. Fabiana Arias, Gabriela Hueda. Gabriela Vargas. And the elimination. Wow, 4, at the same time, on the line. And now, we need the photo finish for this. 1, 6, 1, eliminated. Number 1, 6, 9, eliminated. 1, 6, 1. Okay. 161, grazie. Warning. Number 63, warning. Number 63, warning. And now, Lian Van Loon from the outside, the European champion. European champion, Lian Van Loon on the outside. And with the German team and the French team, Marie Dupuis. Marine Lefeuvre on the outside. The Italian team on the inside. And the Palouse. Luisa Olaway. But this is the Colombian team, with the world champion, Fabiana Arias. And now, from the inside. Number 3, 2, 1, eliminated. Number 3, 2, 1, eliminated. 321, eliminated. 321. 321. Number 1, 38, disqualified. 138, disqualificata. 1, 3, 8. Number 3, 4, 1, eliminated. Number 3, 4, 1, eliminated. Number 1, 38, please leave the track. 1, 3, 8, leave the track. Thank you. And now, it's France from the outside, with Marine Lefeuvre, Marie Dupuis. And now, it's Colombian France, sweetie. Fabiana Arias. Gabriella Rueda. You'll see Chan from the outside. And it goes in the lead. Chinese, Taipei, with Yu, Xin, Chan. Then Fabiana Arias and Gabriella Rueda. Marine Lefeuvre on the outside. And this is going to be an exciting race. We are at the elimination. 27 laps to go. And now, they have the track yet. Number 3, 7, 6. Number 3, 7, 6, eliminated. 367, do Portugal. Elimination. Yeah, you are eliminated. 367. Grazie. Obrigado. Okay. Perfecto. Angelina Otto from Germany, with the French team on the outside. Angelina Otto. Number 3, 6, 7. Number 3, 6, 7, eliminated. 367. And now we have, yeah, the pack is much, much smaller than it used to be. Il gruppo è chiaramente meno numeroso, anche visivamente, molto più compatto. È sempre la nazionale colombiana con Fabiana Arias e con Gabriella Rueda. Marine Lefeuvre, Marie Dupuis, all'esterno per la Francia. 2, 1, 0, second warning, 210, seconda munizione. Number 3, 3, 5. Number 3, 3, 5, eliminated. And now we are with France and Colombia. Fabiana Arias, Gabriella Rueda, Marine Lefeuvre, Marie Dupuis, Eda Paluzzi, Luisa Wadaway. In the middle of the pack, la squadra italiana rimane all'interno del gruppo. Ottima, la condotta di gara delle due azzurre fino a questo momento. Siamo all'eliminazione di meno 21. Number 2, 1, 0. Number 2, 1, 0, eliminated. Eliminated, 2, 1, 0, Angelina. Thank you, thank you, Angelina. And now we are also with the, we keep on pushing with the Colombian team. Fabiana Arias, Gabriella Rueda. In first and second place. A lot of kilometers out in front for the Colombians. And from the outside is the French team with Marine Lefeuvre, Marie Dupuis. And there's also the Czech Republic inside with Katerina Kainova. This is difficult. This was difficult. 2, 9, 9, eliminated. Number 2, 9, 9, eliminated. Luisa. Thank you, thank you, Luisa. And now we have Gabriella Rueda and Fabiana Arias out in front with the representative of Ecuador in third place, Gabriella Vargas. Sempre le due colombiane. Adesso sono le due francesi che vanno davanti. Marine Lefeuvre e Marie Dupuis. Marie vengono ricacciate all'esterno. Ed è ancora la nazionale colombiana con Arias e Rueda. Poi Vargas in la terza posizione. Poi è da paluzzi. Si lotta per la terza e la quarta posizione. Un po' di smanattamenti. Normale succedono. 63, eliminated. 63, eliminated. Number 63, eliminated. Number 62, second warning. Numero 62. Seconda munizione. Fabiana Arias, Gabriella Rueda. E adesso è per... Number 120, number 120, eliminated. Now it's Marie Dupuis out in front. She tries to stay out in front, but the Colombian team keeps the race under control. Le due colombiane si ha approvato Marie Dupuis ad andare davanti. Adesso è in terza posizione. Sono sempre Arias e Rueda. Poi Marie Dupuis. Poi Vargas. Attenzione, una caduta. Le due colombiane coinvolte. Number 33, eliminated. Sì, number 33, eliminated. One 90, 190, warning. One 87, warning. Le due colombiane sono state coinvolte nella caduta, ma rientrano, rientrano. Rientrano, sono in cinque davanti. E qui giustamente un po' di fair play. Molto fair play. Number 190, eliminated. One 90, Marine Lefeuvre, has been eliminated now. And good fair play. They are waiting for them. E giustamente, le aspettano. Valeo Iabustamante, adesso in terza al gruppo. Poi è da Paluzzi. Poi, Yu, Ho, Sin, Chan. E rientrano e vanno ancora davanti le due ragazze colombiane. Number 139. Scusa, sorry, sorry. No, elimination. Elimination now, sorry. Eliminazione al passaggio. Adesso vado avanti. Yu, Sin, Chan. Con il Chinese Taipei. E al passaggio. Mancano soltanto otto giri. Eight laps to go. Faltano otto. Three nine eliminated now. Now three, one, three, nine, eliminated. È tornata sotto anche Mario Dupuis. E adesso sempre Arias. Poi Rueda. Poi Rifobustamante. Poi Edda Paluzzi. Andiamo all'inizio. È stata eliminazione di meno sette. E adesso il gruppo si è. Number 187. Number 187 eliminated. Mario Dupuis. And now the pack is only made of seven skaters. Arias e Rueda. Arias e Rueda. Poi. Poi dovrebbe essere... Number 207. Number 207 eliminated. Poi dovrebbe essere Angie Annabella in terza posizione. Sempre Arias, Rueda. Poi Annabella, Rifobustamante. Si volsi in Chan all'esterno. Edda Paluzzi. E adesso al passaggio. Mancano tre giri. Mancheranno tre giri. Una superiorità assoluta da parte delle ragazze colombiane. sono cadute, sono rientrate e sono lì a tirare. È suonata. È suonata. 2-9-5 eliminated. 2-9-5 eliminated. Edda. 2-9-5 eliminated. Leave the race, please. Edda, grazie. E adesso intanto suona la campana e sono in quattro davanti. E sono in quattro davanti. Fabriana Arias. 3-9-8 eliminated. 3-9-8 eliminated. Ed è proprio Gabriele Arrueda che allunga quando suona la campana dell'ultimo giro. ultima volta. 6-2 eliminated. Number 6-2 eliminated. E quindi è una bella volata. È una bella volata. Ma è lei. Gabriele. Gabriele. Gabriele Arrueda. Campiona del mondo. Gabriele Arrueda. World Champion. 10,000 meters elimination race. Senior Ladies Gabriele Arrueda.